Contiamo di portare a termine più presto il processo di sanamento e rilancio delle naadi, lo ha detto il Presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsiglio al termine dell'incontro che ha avuto a Pescara nella sede della Regione con i rappresentanti locali di alcune sigle sindacali e con i referenti sindacali dei lavoratori delle naadi. Intanto i tecnici del Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo della Regione investiti dal nuovo Assessore Quaglieri stanno valutando l'attendibilità della proposta progettuale di Project Financing in ordine alla questione economico-finanziaria. Abbiamo riavviato le procedure per portare in giunta il provvedimento con cui approvare il progetto, ha assicurato Marsiglio, ma vogliamo essere sicuri che i promotori siano ancora in grado di confermare i contenuti economico-finanziali della proposta, soprattutto in ordine alle garanzie fideiussiorie. Vorremmo evitare brutte sorprese, ha aggiunto soprattutto alla luce dell'aggiornamento dei prezzi dei fornitori di energia e gas. Le naadi sono infatti notoriamente un impianto energivolo ed è proprio per questo che va analizzato il piano di fattibilità del project.